Qui a Casolvetrano oggi si è presentata la candidatura di Ina Venezia, candidata per Sicilia Futura alle prossime elezioni dell'Ars del 5 novembre. Allora Ministro, come è stata scelta questa candidatura, come procederà queste elezioni trapanesi? Io credo che vadano bene perché ovunque andiamo troviamo gente disponibile ad ascoltarci e poi credo vadano via con l'intenzione anche di sostenerci. Questo è merito delle nostre candidate e dei nostri candidati. Ina qui ha tenuto poco fa un incontro con tanta bella gente, nonostante il terremoto, che ha saputo insieme alle altre amiche che hanno parlato e che l'hanno sostenuta come la sosterranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ha saputo entrare nella testa e nei cuori dei presenti. Questo è il giudizio di uno competente e credo che avrà un notevole risultato, un successo che merita tutto. L'abbiamo scelta per la sua intraprendenza, per la sua intelligenza, per le qualità umane che sprizzano, come si dice, da tutti i pori, per la sua simpatia e credo che questo sia un valore aggiunto che certamente farà sentire il suo peso nelle urne. È una grande esperienza in politica, è stato quindi anche Ministro alle Telecomunicazioni, se non sbaglio. Adesso ritorna in politica con Sicilia Futura, con Micari Presidente. Intanto io non l'ho mai lasciato, quindi non è un ritorno, non è un ritorno. No, ho creato questo insieme a tanti amici, qui c'è Doriana, c'è Giovanni, c'è Daniela, c'è Ina, perché crediamo nella necessità di dare una casa, un luogo in cui potere militare ai tanti riformisti e progressisti che questa casa non avevano. È una casa aperta, una grande tenda aperta, avrebbe detto Don Primo Mazzolari, in cui ciascuno, pure nei momenti di buio, basta che accenda un fiammifero perché si faccia luce. Bisogna farlo tutto insieme e qui credo che questa volontà di farlo tutto insieme ci sia. Sicilia Futura è quindi questo luogo di incontro, di confronto, di partecipazione che vuole restituire ai cittadini siciliani il gusto della politica. Siamo riformisti, siamo progressisti, siamo amici di Renzi, quindi guardiamo al nostro futuro con la certezza che un giovane bravo, valido e capace potrà anche a livello nazionale segnare una rotta e una via che ci potrà far uscire da questa condizione di difficoltà. Le sue esperienze nel Paese come Premier lo hanno dimostrato e noi lavoriamo perché torni anche lui ad essere primo attore della politica italiana. Noi per la nostra parte faremo il nostro meglio in Sicilia. Bene, Ina Venezia, come si sta preparando per queste elezioni, per questa avventura? Ma soprattutto cosa porterà di sé all'Ars? Allora, io porterò intanto il mio entusiasmo e la mia passione, come ho detto poco fa nel discorso, perché è quello che mi contraddistingue e soprattutto porterò il mio valore umano. Io sono stata sempre molto sensibile al servizio, l'ho fatto in altri ambienti dove potevo farlo, il ruolo ti consente, per cui in questo caso se me ne danno l'opportunità, anche in qualsiasi ruolo potrò avere, cercherò di fare del mio meglio per la comunità, sempre nell'ottica di essere in un movimento in cui credo, quale Sicilia è futura, che è progressista e riformista, come dice lui, e io sono sempre aperta alle riforme, e con un presidente che sicuramente rappresenta il nuovo e che ha un occhio attento alle nuove generazioni. Io ho due figli, spero, che già sono grandi, però le nuove generazioni è importante che siano salvaguardate assieme alla nostra Sicilia. Un territorio come quello castelvetranese, su cosa basare appunto un nuovo sviluppo? Allora, per il nostro territorio c'è un mondo che si apre, basta avere una coscienza e un dovere politico e sociale. La politica dovrebbe essere col cittadino al centro e qua a Castelvetrano e nei dintorni, perché parliamo di coste, parliamo dei posti più belli del mondo, come Selinunte o altre caratteristiche ambientali e coste stupende, basterebbe l'indotto sul turismo e sul turismo sia climatico che culturale per dare lavoro a molte persone. E se qualcuno sta bene, sta bene anche l'altro. Bene, con noi anche Doriana Licata. Allora, come procede questa campagna elettorale? Siamo adesso qui a Castelvetrano, ci siamo viste spesso ultimamente? Ci siamo viste spesso perché a noi è toccato l'onore e l'onere di comporre una lista e quindi noi saremo a fianco di tutti i candidati di Sicilia Futura. Stiamo facendo una battaglia di libertà, una battaglia di riscatto e soprattutto il contatto con la gente, con le persone. Cerchiamo di spiegare qual è il nostro progetto, qual è il nostro intento, qual è il nostro obiettivo. Abbiamo presentato una squadra coesa, una squadra convinta che con grande entusiasmo, che è il motore che muove il mondo, cercherà di affermarsi in questa provincia che ha tanto bisogno di una politica certamente più attenta al territorio e ai fabbisogni della gente. Bene, questa lista in provincia come rispecchia il territorio? Lo rispecchia bene? Io ritengo di sì perché tutte le parti del nostro territorio sono rappresentate da validi candidati. Sicilia Futura ha l'interesse a promuovere il territorio della provincia di Trapani, soprattutto le eccellenze che ci sono, sia culturali che culturali. Perché siamo qua a Castelvetrano, ci sono i templi di Selenunte, speriamo che Selenunte sia riconosciuto patrimonio dell'umanità. Per quanto riguarda invece l'economia, che è prevalentemente agricola, abbiamo produzioni di eccellenza come la Nocellara del Belice, la Vasterda del Belice, che stanno riscuotendo successo in campo economico e in campo agricolo. L'olio della Nocellara del Belice, che ci apprestiamo ad avere la primizia, è un olio che viene apprezzato in tutto il mondo. Infatti la Nocellara si presta sia come oliva da menza che come oliva da olio. Questo bisogna sfruttare. Le potenzialità che ci sono, turismo, agricoltura e enogastronomia. Quindi Sicilia Futura farà di tutto con i rappresentanti che speriamo possa avere a Palazzo dei Normanni, di portare avanti queste istanze e queste esigenze del nostro territorio. Sicilia Futura si presenta quindi anche pronta ad affrontare le prossime elezioni che ci saranno dopo questa? Sicuramente, perché la politica ha bisogno di essere praticata, di essere esercitata. La politica è un diritto a dovere e quindi l'impegno civile che viene assunto in questa occasione è ovvio che venga assunto con l'obiettivo di guardare al futuro. Lo dice nel nome stesso di Sicilia Futura, altrimenti non può essere limitato al presente. Il presente è oggi, ma il futuro è Sicilia Futura.